Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. È nata Immagine Fior di Spino, la seconda figlia di Stash e Giulia Belmonte. A dare la notizia della nascita della loro secondogenita è stato proprio il cantante, con un post sui social. Stash su Instagram ha mostrato due tenere foto con la neonata, svelando per la prima volta il nome della piccola. Immagine arriva dopo due anni dalla nascita di Grace. Molto probabilmente il nome della secondogenita è stato scelto come omaggio alla celebre canzone di John Lennon, che è un invito all'amore e alla pace. Il cantante lo ha annunciato a sorpresa, visto che in passato non aveva mai accennato alla questione del nome, rivelando però altri dettagli, come il sesso della bimba svelato qualche mese fa. I due avevano annunciato la loro seconda attesa sui social, mostrando il pancione di Giulia. Stash non ha mai nascosto l'emozione del diventare papà per la seconda volta, e ha sempre dichiarato esplicitamente il grande amore per le sue bambine. Il post con cui Stash e la neomamma hanno annunciato la lieta notizia. È subito stato preso d'assalto da centinaia e centinaia di fan, che si sono congratulati con la coppia. Tanti anche i personaggi dello spettacolo che hanno salutato l'arrivo della bimba. Tra i primi a far sentire il loro sostegno ci sono stati Lorella Cuccarini, Beatrice Valli, Monica Leofreddi, Stefano De Martino, Rudy Zerbi, Stefano Corti, Paolo Ciavarro, Giulia Pauselli, Enrico Nigiotti, Giusi Ferreri. Grazia De Torres, Emanuele Filiberto di Savoia, Maria Sole Poglio e Marcello Sacchetta. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.